E' la 29esima giornata della Serie A, si apre con Fiorentina Genoa, Stadio Artemio Franchi. Buon pomeriggio, anzi buonasera, da Riccardo Trevisani, Antonio Di Gennaro. Prova a lavorare Gobi, viene fermato dal raddoppio, ancora Pasquale per Girardino che finisce per terra, lotto da terra, poi col tacco addirittura per Gobi, che giocato di Girardino, Gobi dentro, e il tacco di Mario Alberto Saltana, un gol straordinario della Fiorentina, due colpi di tacco, fanno 1-0. Ancora una volta sugli esterni sono andati, perché è stata ancora una grande giocata di Girardino. Attenzione a Jovetic che punta l'area di rigore, mette la palla sul destro, va da solo Jovetic! Amelia in due tempi, mette una persa sul pallone. Questo è un grande giocatore. Cross di Pasquale, morbido dentro, allontana Zapater, c'è sempre Pasquale che recupera sull'errore di Mesto, Montolivo dentro, ancora per Pasquale! Esterno della rete, grande opportunità. Jovetic, grande lavoro, con l'esterno per Gobi, grande possibilità. Gobi col sinistro, Amelia copre il primo palo, e la mette in calcio d'angolo. C'è Jovetic solissimo, Gobi lo vede ora, Jovetic è tu per tu con Amelia, Jovetic lo salta, Amelia sul pallone, no, calcio di rigore, calcio di rigore per la Fiorentina. Gilardino ha litigato per questo calcio di rigore, lo vuole battere lui, calcio a Gilardino! Quattordicesimo gol in campionato di Alberto Gilardino! Sempre Pasquale, in verticale del Babacar, Bocchetti in anticipo, occhio a Brazzi legalese, che è molto veloce, prova a passaggi davanti, chiude Bocchetti che buca, Babacar, per il primo gol in Serie A, Babacar, eccolo, il primo gol in Serie A! Non risulta nemmeno lui! È piccolissimo, e va a segnare a 16 anni il suo primo gol in Serie A, 17 giusta e ragione! È molto bravo Russo, che infatti non concede recupero, così come fatto nel primo tempo, perché la partita non ha più storia, ha vinto la Fiorentina 3 a 0. Grazie!